apri bene un po' di più ancora un pochino dai di più oh si va meglio allora vediamo hai trovato pane per i tuoi denti a te serve una corona ma sono io il re ora mi ha sumato un anestetico con gaspio e fammelo doppio eh il sorgente da fiti li metterà la bocca in riga fammi vedere le tante fondato si si nel si però tanti di quei buchi gaspile un'갑iera ragazzo Ehi! Quello è un pericolo di incendio! Oh! È già fabbato, capperi! Oh sì! L'igiene conta in questo lavoro! Vuoi che ti lavi i denti? No! B-b-b-basta con le palecciate! Puoi estrarre il d-dente e una tur-t-t-t-t-t... Mi fa male! Certo che sì! Perché non l'ha detto subito? No, no... Non oggi. Ahah! La corda! Potresti sentire un leggero fastidio. Iscriviti! C'è ancora? Mi ritroviamo fumando con queste! No, 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 non se ne parla, sei un implodione, stami lontano! No, no, non se ne parla!